Troviamo in sesta corsia la primatista italiana di categoria Cristina Sanulli, Endas Cesena, poi in quinta dalla Ponte Vecchio di Bologna Valentina Petrillo, in quarta dall'Ambrosiana Denise Caroline Newman, per la libera atletica c'è in terza l'Agnese Claudia Rossi e in seconda per Cusassari Maria Colombino. Quinta, sesta, quarta corsia. Sanulli, Petrillo, Sanulli, Petrillo, Petrillo sul finale, 26-27 e Sanulli. Grazie. 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 Grazie.